I rapporti tra i due club infatti sono ottimi. Come testimonia anche l'ultima trattativa in ordine di tempo portata avanti in tandem, lo scambiò Pjanic Artur di un anno fa. Un affare che ha portato benefici, soprattutto dal punto di vista economico più che tecnico, ad entrambe le parti. Ora, come detto, la Juve potrebbe tornare a bussare alla porta blaugrana, in ballo stavolta un possibile doppio colpo bianco-nero. Il primo, di cui ormai si parla da svariato tempo, è il possibile ritorno a Torino proprio di Miralem Pjanic. L'idea si è fatta concreta da quando sulla panchina della vecchia signora è tornato Allegri, che stima molto il bosniaco sia per le sue qualità che per presenza all'interno di uno spogliatoio che già conosce benissimo. L'affare può concretizzarsi solo in prestito o, al limite, con un nuovo scambio. In Spagna il portale specializzato in calciomercato Todofi Cajes assicura che il Barcellona vorrebbe inserire nell'affare Rodrigo Bentancur. Pare però difficile che la Juventus sia disposta a sacrificare l'uruguaiano per favorire il ritorno di Pjanic. Ma la vera novità del giorno riguarda il secondo nome che potrebbe sbarcare a Torino direttamente da Barcellona. L'indiscrezione a sorpresa è stata riportata da TuttoJuve.com, secondo cui la Juve avrebbe un serio interesse nei confronti di Sergino Destro, laterale destro accostato ai bianconeri anche prima che si trasferisse a Barcellona. Evidentemente il gradimento nei confronti del ragazzo statunitense classe 2000 non è scemato e anzi ora la Juve sarebbe pronta a rifarsi sotto per lui. Il terzino, sempre secondo TuttoJuve, potrebbe già lasciare il Barca, che è pronto a rivoluzionare la propria rosa in estate. Ci sarebbe anche il gradimento da parte del giocatore all'opzione bianconera. Il costo del cartellino di Dest si agirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra assolutamente abbordabile, soprattutto per un talento del genere. La Juventus è al lavoro, con un occhio attento verso Barcellona.